eccoci, allora riprendiamo il discorso che abbiamo accennato ieri sulla chiusura della lezione di come passare dall'utilizzo di cicli semplici ai cosiddetti cicli annidati questa figura ci suggerisce, se guardiamo sulla lato sinistro che abbiamo un semplice e normalissimo ciclo while while condizione, se è vero, scusate la t, anziché qua dovrebbe essere qua sotto il vero, il true, vado nel blocco b se invece è falso, diciamo così, termino le iterazioni e quindi posso uscire dal ciclo b è il body, il corpo del ciclo che viene ripetuto più volte questo è un semplice ciclo while, potremmo anche scriverlo come ciclo forse questa condizione forse semplicemente analizza gli elementi di un contenitore o di un range e fin qua nulla di nuovo anche nulla di nuovo il fatto che dentro il corpo di questo while può esserci qualunque tipo di istruzione o combinazione di istruzione python compreso eventualmente a sua volta un altro ciclo e quindi tra le molte istruzioni che possono comporre questo corpo del ciclo while può esserci casualmente, qui c'è la riga tratteggiata che ci fa vedere dentro questo grande blocco b che c'è un altro ciclo while che avrà la sua condizione 2, che avrà il suo corpo body 2 che lavora tranquillamente senza preoccuparsi del fatto che lui sia inserito dentro un altro ciclo lui lavora con le solite regole di prima quindi di per sé non è una cosa particolare, non richiede nozioni particolari dal punto di vista del codice o dell'istruzione del linguaggio semplicemente dobbiamo un attimo familiarizzarci con questo tipo di costruzioni che di fatto combinano cose che già sappiamo per capire un po' come usarle poi facciamo un esercizio che c'è sulle slide ma mi sembra che anche sulla base della discussione di ieri potremmo partire con un esercizio di un tipo diverso in cui cercheremo di scoprire perché o a che cosa possono servire questi doppi cicli allora immaginiamo di calcolare scriviamo un programma quindi scriviamo un programma che per calcolare il volume di un parallelepipedo il programma dovrà acquisire le dimensioni dei tre lati che devono essere diciamo positive e minore di diciamo mille per mettere un valore e poi stampare volume calcolato nel caso in cui l'utente inserisca un dato non valido il valore di un dato non valido di un lato non valido deve essere ripetuto l'inserimento punto ok un caso semplice io leggo un numero leggo il secondo leggo il terzo se quando leggo il primo questo numero è sbagliato cioè non è nel range tra 0 e 1000 allora devo chiedere nuovamente il numero all'utente cosa che abbiamo già fatto sì mi accorgo Massimiliano mi fa notare che ho usato per la prima volta una sintassi che non aveva mai visto i tre apici tre apici singoli oppure tre apici doppi funziona anche in quel modo serve per costruire una stringa su più righe una stringa che contenga l'interno degli a capo e se una stringa viene messa lì in mezzo al nulla di fatto non fa nulla non esegue nessuna istruzione semplicemente Python calcola la stringa e butta via il risultato e viene usato molto spesso appunto per scrivere dei commenti su più righe dei blocchi di testo da inserire dentro il programma però potremmo benissimo assegnarla a una variabile tipo stringa e questa viene inserita nel programma se invece non viene assegnata nulla viene di fatto ignorata dal compilatore si usa molto spesso per documentare questa struttura qua si usa molto spesso per documentare cosa fa un programma o cosa fa una funzione semplicemente mettendo diciamo così una sorta di pseudo commento sotto forma di stringa come prima istruzione io l'ho scritto solamente per comodità per non dover mettere cancelletto davanti a ogni riga ok allora lo sappiamo fare facilmente supponiamo di innanzitutto fregarcene di questa seconda clausola ok quindi leggo tre lati e calcolo il volume voi potreste dire lato A uguale input scusate flot di input di lato 1 e così via B uguale flot di input di lato 2 e C è uguale però visto che ci siamo anziché chiamarle A B C D immaginate che adesso è un parallelepibido da solo tre lati per brevità ma immaginate che magari questo debba potreste essere anche una figura più complessa quindi magari il numero di dati che devo acquisire sono 20 o sono di più quindi un iperparallelogramma su più dimensioni allora conviene organizzare questo all'interno di un ciclo noi dobbiamo leggere tre lati quindi in questo caso i lati da leggere sono tre lo mettiamo in una costante e ripetiamo per tre volte la lettura di un dato e quindi chiediamo all'utente il valore di un certo lato che altro non sarà che il float dell'input di lato e qui dovrò scrivere lato 1 lato 2 lato 3 allora lo scriviamo con lato con una stringa formattata in cui ci scrivo ip1 due punti spazio quindi scriverò la prima volta lato 1 quando i vale 0 lato 1 quando i vale 2 quando i vale 1 lato 2 e così via proviamo a vedere se funziona vedete che qua sotto viene lato 1 lato 3 lato 2 55 lato 3 22 e poi il programma ovviamente termina perché ha esaurito le tre iterazioni questo range lati lato i vale 3 itererà col valore di i uguale 0 u uguale 1 e i uguale 2 fin qui nulla di nuovo è un semplicissimo ciclo for con un numero di iterazioni definito da una costante noi a questo punto dobbiamo calcolare il volume quindi all'interno di un ciclo for il volume lo calcoliamo come se fosse come se fosse una sommatoria solo che anziché sommare i lati dovremmo moltiplicarli tra di loro quindi inizializziamo una variabile volume a 1 e ogni volta moltiplichiamo volume uguale volume per lato e alla fine avremo quindi il valore del volume il volume è pari a volume ok vediamo se funziona con dei dati semplici 3 per 4 per 5 3 per 4 per 5 mi darà 15 per 5 60 ok giusto allora Francesco mi chiede quando fai l'input bisogna inserire il valore come fai per inserire anche l'unità di misura no l'input leggi una stringa se questa stringa contiene solo un numero allora lo puoi convertire in float e te lo darà direttamente come numero reale e se l'input fosse qualcosa del tipo se volessi che l'utente potesse inserire qualcosa del tipo 3 metri scusate la m è minuscola allora leggi con l'input la stringa e poi devi andare a trovare dove c'è lo spazio separare la parte numerica separare l'unità di misura e farti l'analisi quindi devi farti tutto a mano tu analizzando la stringa però il testo non mi diceva questo il testo mi diceva che le dimensioni dei lati devono essere i numeri positivi quindi il testo non parlava di unità di misura parlava semplicemente di valori numerici quindi in questo caso non mi devo complicare la vita su questo altrimenti non c'è nessun automatismo nel linguaggio devo farmi a mano tutto il lavoro Alida mi chiede perché stampo i più 1 anziché i beh perché i vale assume i valori 0 poi 1 poi 2 allora se tu lanci un programma ad un utente gli chiedi qual è il lato 0 se questa persona è una persona normale ti dice ma sei scemo quello di lato 0 i lati sono l'1 2 3 e quindi l'istruzione il range come sempre in tutti i linguaggi di programmazione inizia a contare da 0 ok il cervello degli informatici conta da 0 però il cervello delle persone normali conta a partire da 1 e quindi a livello a scopo estetico puramente estetico perché qui compaia 1, 2, 3 quando in realtà i vale 0, 1, 2 sommiamo questo 1 ok volendo potremmo anche mettere un input su lati sì certo se volessimo generalizzare l'esercizio per calcolare non solamente i parallelepipedi su tre dimensioni ma anche eventualmente quelli su due cioè i rettangoli oppure eventualmente su quelli su quattro cioè gli iper le figure negli iper spazi si può tranquillamente fare Noemi mi dice dove abbiamo messo che i lati si moltiplichino tra di loro in questa istruzione qui io sono partito con un valore di volume che è l'elemento neutro per la moltiplicazione cioè 1 ho scelto il volume anziché la somma per cambiare un po' così perché se no vi addormentate perché facciamo sempre lo stesso esercizio sulla somma dei numeri se volessimo sommare i lati partiremo con somma uguale a 0 e ogni volta faremo somma uguale a somma più lato ecco potendo calcolare il volume li dobbiamo moltiplicare tra di loro e quindi io moltiplico ogni volta il volume chiamiamolo volume la produttoria il prodotto parziale di tutti i lati precedenti moltiplicato per il lato che ho appena acquisito che ho appena letto quindi ogni volta il volume mi dà il prodotto dei lati precedenti e ad ogni iterazione acquisisco un nuovo dato e moltiplico questa variabile volume per il valore del lato che ho appena letto e questo lo ripeto ogni volta perché essendo dentro il for ogni volta io uguale a 0 leggo il primo lato lo acquisisco e lo moltiplico non vi vedo tanto convinti quindi magari proviamo a vederlo eseguito passo passo ok lati vale 3 inizializzo il volume a 1 e a questo punto ho questo for che mi ripete per i uguale a 0 1 2 3 volte ok i uguale a 0 prima iterazione faccio la input e quindi lui inserirà l'utente ecco qua a destra inserisco il valore 3 invio adesso ho letto il primo lato che è 3 l'istruzione che faccio qua è prendere il volume che vale 1 e moltiplicarlo per lato che vale 3 e questo mi darà il nuovo valore di volume che è il volume un po' parziale cioè ho fatto la moltiplicazione del primo lato poi dovrò fare gli altri due infatti torno indietro seconda iterazione i vale 1 acquisisco il secondo lato che sarà 4 e poi aggiorno il volume sulla base del volume del produttore parziale che ho fatto finora che valeva 3 perché avevo visto un solo lato moltiplicato il lato attuale che vale 4 e il volume salirà a 12 e così via quando la terza iterazione i uguale a 2 chiederò il terzo lato abbiamo deciso di mettere 5 e quindi il volume che calcolerò sarà il 12 che è il risultato delle moltiplicazioni precedenti per 5 che è il valore del lato attuale e alla fine ho finito le tre iterazioni quindi sul ciclo 4 si chiederà se deve ancora fare qualcosa dirà di no e alla fine stamperà il valore del volume che è pari a 60 ok quindi tutto qua solo per chi lo sta dicendo nei messaggi il fatto di ripetere l'inserimento non l'abbiamo ancora considerato qui siamo solamente facendo la prima parte di questa specifica del programma l'aggiungiamo tra un attimo quando siamo sicuri di ciò che abbiamo fatto finora ok quindi la variabile lato rispondendo ai messaggi nella chat ogni volta ogni volta che leggo il lato ad ogni iterazione leggo un nuovo numero dall'utente e questo va a sovrascrivere il valore che ha la variabile lato quindi alla prima iterazione lato vale il primo numero che ho letto alla seconda vale il secondo numero che ho letto e si dimentica la prima alla terza iterazione varrà il terzo numero che ho letto e si dimentica la seconda e così via cioè ogni volta si ricorda solamente l'ultimo numero che ho letto quindi alla fine del ciclo io non ti so più dire quanto sono i lati quanto valevano i lati ma posso solamente dirti il valore del prodotto di questi numeri perché è l'unica cosa di cui ho tenuto traccia per coloro che hanno chiedono cos'è la F davanti alla stringa fa parte della formattazione delle stringhe e quindi andate a rivedervi la lezione in cui abbiamo parlato di formattazione dell'output semplicemente mi permette di inserire se io una stringa viene messo il carattere F davanti e a questo punto diventa possibile diventa una stringa formattata e diventa possibile inserire tra parentesi graffe proprio all'interno della stringa i nomi delle variabili che voglio stampare che voglio inserire questa è un'alternativa rispetto a concatenare i valori convertire in stringa ma ne abbiamo già parlato è un argomento non particolarmente complesso Daria mi dice che il volume 1.0 è il valore neutro sì perché se io ho questa variabile di volume la dovrò inizializzare in qualche modo per fare la moltiplicazione allora non posso inizializzare a 0 perché se inizializzassi a 0 la prima moltiplicazione che mi fa è 0 per lato che da sempre 0 quindi ogni volta moltiplicherei il lato nuovo che mi arriva sempre per 0 e alla fine il volume sarebbe sbagliato perché direi che è sempre 0 quindi devo inizializzare la variabile con una sorta di valore neutro e in questo caso visto che sto moltiplicando i dati tra di loro il valore neutro è 1.0 è 1 poi potrebbero essersi altri trucchi per dire non lo inizializzo fuori dal ciclo ma lo inizializzo col valore del primo lato quando lo leggo ma non complichiamoci la vita in questo momento non vedo più qualcuno che aveva scritto non ho capito perché voi hai fatto il for non mi ha detto perché cosa serve il for qua serve perché se io ho tre lati devo ripetere per tre volte queste due operazioni lettura del dato e calcolo del volume aggiornamento del volume non voglio fare copia e incolla e scrivere tre volte queste istruzioni e quindi le scrivo una volta sola e uso il ciclo for per fare in modo che vengano ripetute a questo punto questa è la versione semplice ok è esattamente l'esercizio fammi la somma dei numeri che ti ho dato inserisci tre numeri e fai la somma semplicemente se che fa la somma fa la moltiplicazione fine non è nulla di diverso adesso ci aggiungiamo il secondo requisito che mi dice che nel caso in cui l'utente inserisca il valore di un lato non valido questo deve essere ripetuto l'inserimento deve essere ripetuto ok allora noi lo sappiamo fare no? proviamo a farlo a parte cancello il pezzo di sotto e facciamo una prima prova io per leggere un dato so già che potrei di fatto l'istruzione di base è sempre la stessa lato leggimi il valore del lato e poi sappiamo già che abbiamo già visto che potremmo usare un ciclo while che ripete l'inserimento del dato fino a quando il dato non diventa corretto e quindi potrei dire andiamo a verificare l'avevamo fatto in modi diversi uno l'avevamo fatto con la lettura iniziale l'altra volta l'avevamo fatto invece con un flag il modo più semplice è quello di magari farlo con la lettura iniziale quindi se lato minore di zero minore uguale anche zero non va bene or lato maggiore uguale a 1000 allora dovrò dire che il valore del lato non è valido valore non valido virgola ripeti e quindi ripetere l'istruzione di lettura ok questo è ciò che facevamo all'inizio di settimana scorsa sui cicli while io leggo un dato se questo dato è al di fuori in questo caso è al di fuori del range valido quindi finché è sbagliato allora stamperò messaggio di errore e leggerò nuovamente lo stesso dato ok perché ho messo un while e non un if ma l'if andrebbe bene se io sbaglio il dato è sbagliato allora lo rileggo e poi non controllo più niente lì farebbe controllo una volta sola sul primo dato che ho letto io però voglio di più voglio che dopo che lui ha inserito un dato l'ha sbagliato lo faccio reinserire dopo che l'ho inserito voglio ricontrollarlo ricontrollare che sia corretto e quindi da questo while non uscirò mai rimarrò intrappolato lì finché l'utente finalmente non inserirà un dato valido possiamo provarci semplicemente inseriamo nel suo lato meno 6 mi dice che il valore non è valido e ripeti se invece il dato è 1500 anche il valore non sarà valido finalmente quando inserisco un dato valido 80 il programma va avanti beh in questo caso va avanti nell'altra parte del programma lo interrompiamo quindi questo lo sappiamo fare leggere un singolo dato e insistere finché quel dato non è corretto semplicemente questo blocco di codice dovrà andare a sostituire l'input che avevamo scritto prima mentre prima facevamo un input cieco alla cieca leggo e mi fido adesso non mi basta più perché devo tenere conto di questo requisito che il dato deve essere richiesto una seconda volta e quindi quando anziché leggere il dato alla cieca inserirò queste 4 righe che mi gestiscono la lettura del dato ripetendola nel caso in cui ci sia un errore quindi ci accorgiamo dopo che avremmo ottenuto un ciclo dentro un altro ciclo però lo facciamo naturalmente nel senso che noi qua in testa avevamo leggo un dato scrivo un'istruzione se in testa avessi leggo un dato controllando che sia giusto mi costruisco questo piccolo frammento di programma che poi questo frammento di programma capita che sia si trovi all'interno di un altro ciclo for non cambia non cambia il modo in cui l'ho costruito semplicemente lo infilo lì quindi l'operazione che faccio adesso è quella di prendere questo codice che è solamente come dicevo un frammentino di un programma che gestisce la lettura di un dato quindi scriviamolo come commento legge un dato e garantisci che sia compreso tra 0 e 100 e 1000 questo blocco qua lo prendo questo sarebbe fatto per un lato solo ma io lo vado a sostituire a ciò che c'era qua adesso attenzione che devo indentare bene quindi prima c'era qui dentro il ciclo for una sola istruzione input che non controllava nulla adesso al posto di questa istruzione input ho messo queste tre righe no me ne manca un questo qua scusate queste quattro righe bisogna incolonarlo giusto ok queste quattro righe che sono esattamente quelle di prima quelle di prima le avevamo fatte solamente per prova per ragionarci adesso ovviamente queste qua di prima non servono più le dobbiamo togliere e quindi le abbiamo integrate ecco qua il programma a cui siamo arrivati le abbiamo integrate in questo modo quindi abbiamo il nostro cicloforo esterno che itera sui tre lati lato 1 lato 2 lato 3 e va bene con la sua variabile di controllo i con la sua variabile aggiornata con il suo accumulatore volume che viene accumulato ogni volta sulla base del nuovo lato che ha letto e questo è esattamente come prima poi la lettura del dato non è più una sola istruzione ma è un blocchettino di poche istruzioni che ha lo scopo di validare la correttezza del valore contiene sull'interno un ciclo un ciclo while beh in questo caso c'è un cicloforo esterno e un ciclo while interno fa lo stesso possiamo combinare a piacere come vogliamo quindi se io eseguisti questo programma lui cosa fa ah no scusate dobbiamo ancora fare una piccola correzione perché qui mi stampa lato e basta mentre io volevo stampare lato i più uno quindi scrivo i più uno e devo dire che questa è una stringa formattata quindi ci metto la f davanti e anche qua dicono la stessa cosa i più uno e potrei anche mettere qua che il valore non valido stampo quanto valga che è il lato ok ovviamente qua sto solo controllando valori numerici non validi se l'utente inserisce un carattere una stringa quindi che non può essere considerata come un numero intero il programma si blocca ma non è qua il nostro obiettivo andare a catturare validare quel tipo di errori ok quindi lato 1 distrattamente inserisco 20.000 lui mi dice che il valore 20.000 non è valido ripeti l'inserimento sempre del lato 1 e questa volta scrivo meno 5 e non va di nuovo bene e la terza volta finalmente scriverò 0 ovviamente non va di nuovo bene perché per fortuna ho controllato che se è minore o uguale 0 non va bene devo ripetere finalmente poi scriverò 3 e ha acquisito vedete che va avanti il programma sul lato 2 ha acquisito questo valore e cosa vuol dire? vuol dire che finalmente quando ho inserito 3 sono uscito da questo ciclo while questo ciclo while mi teneva intrappolato tutte le volte che il dato ho inserito fosse un dato non valido finalmente con 3 questa condizione guardiamola un po' 3 minore di 0 no 3 maggiore di 1000 no quindi falso or falso è falso che vuol dire che la condizione a questo punto se il lato vale 3 questa condizione del while è falsa e essendo la condizione falsa il while non viene più ripetuto il ciclo non viene più ripetuto e quindi non essendo più ripetuto viene considerato come value il programma va avanti e fa la moltiplicazione dopo aver fatto la moltiplicazione torna su quindi vedete che sono ancora in un blocco rientrato perché sono dentro questo for torna su e passa all'iterazione successiva e quindi in questo caso chiedere il lato 2 dove si verifica la stessa cosa se inserisco dei dati non validi me li rifiuta se inserisco un dato valido il mio 4 di prima lo prende e ovviamente se sono bravo inserisco subito un dato valido come nel caso del 5 quella ciclo while non verrà eseguito neanche una volta non verrà eseguito neanche una volta perché quando io inserisco 5 su questa istruzione 15 questa condizione era già falsa subito falsa in partenza quindi il ciclo while non esegue il suo corpo neanche una volta perché la sua condizione è già falsa prima ancora di cominciare e quindi tutta questa parte qua non viene mai eseguita se l'utente inserisce subito il dato giusto ok quindi in questo caso non c'è nulla di speciale è quello di cui volevo arrivare insieme a voi cioè il discorso dei cicli annidati non è una cosa in più una cosa particolarmente difficile è semplicemente che a un certo punto ho un ciclo da eseguire a un certo punto di questo ciclo mi ritrovo a dover fare delle operazioni che a loro volta richiedono di impostare di impostare un ciclo ecco io mentalmente devo riuscire a separare come abbiamo fatto adesso proprio adesso l'abbiamo fatto proprio per passi prima abbiamo fatto un ciclo esterno poi abbiamo progettato a parte in un angolino su un foglio di brutta il ciclo interno e poi l'abbiamo inserito nel punto giusto questo mentalmente è ciò che dobbiamo continuare a fare poi a livello di codice non faremo ogni volta tutti questi passaggi però ragioniamo che il ciclo esterno lavora sulla variabile di controllo i e calcola il volume facendo questa moltiplicazione e non gli interessa nulla del tutto il resto il ciclo interno lavora sulla lettura del dato con variabile di controllo il lato che deve essere valido e ripete queste istruzioni qua di input e a lui non interessa nulla il volume non interessa i non interessa il numero di lati ogni blocco fa il suo lavoro ok e ovviamente combinati tra di loro avremo un programma che si ripete più volte e questa istruzione float viene ripetuta tante volte sulla costruzione di input viene ripetuta tante volte quanto lo dice questo while per ogni valore di i ad ogni i nuovo qua si ricomincia da capo giustamente perché è un dato nuovo e quindi dovremmo leggerlo di nuovo da zero vi quadra se vi quadra proviamo a fare questo esercizio proviamo a scrivere a costruire questa tabellina in cui riportiamo per i numeri da 1 a 10 la potenza x elevato a 1 la potenza x elevato a 2 x elevato a 3 x elevato a 4 cerchiamo di farlo anche qui in modo generalizzato cioè non metterci a stampare direttamente print 2 4 8 16 perché sarebbe un pochino lo facciamo lo facciamo lo facciamo generalizzato e quindi diciamo in generale una tabella che ha n righe e k colonne o qualcosa del genere in questo caso sono 4 e vogliamo stampare queste varie combinazioni all'interno di ogni casella scriverò ad esempio qua scriverò 3 alla 7 calcolare dovrò calcolare e scrivere 3 alla 7 che in questo caso è 27 allora poi qui sulle slide ci sono i singoli passaggi ma come quindi potete rivedere i passaggi dell'esecuzione dell'esercizio lo facciamo insieme invece stiamo costruendo il programma passo passo allora il primo ragionamento che dobbiamo fare è qual è è capire la struttura dell'output cioè cosa dobbiamo stampare alla fine dobbiamo stampare della roba ripetuta perché c'è una struttura regolare quindi immagino che dovrò ripetere tante cose e quindi la prima cosa che mi viene in mente è di dire ok questo programma ha un primo livello di approssimazione stampa delle righe quindi io mi immagino già un ciclo che ad ogni ripetizione ad ogni iterazione stamperà una riga stamperà una riga in cui che ne so i uguale a 0 no perdon uguale a 1 in cui i uguale a 2 ma perché lo chiamo i scusate chiamiamolo x x uguale 1 x uguale 2 con x uguale 3 dovrà stampare questa riga qui quindi io mi immagino una parte di programma che fa variare la variabile x da 1 fino a un certo n massimo e ad ogni valore di x dovrà stampare una riga torniamoci qua per il momento non è finita proviamo già a impostarlo quindi io ho creo un nuovo programma che chiamo potenze potenze ok e la prima versione del programma fa quello che abbiamo detto impostiamo un valore di n pari a 10 ok e diciamo che ogni riga corrisponde a un certo valore di x qui faccio una cosa molto banale creo un ciclo for sulla variabile di controllo x che vada da 1 fino a n come lo scrivo in range il valore iniziale sarà 1 il valore finale sarà n più 1 escluso e qua banalmente ci scrivo barando un po' stamperò questa è la riga per x uguale x e ovviamente davanti a queste ci vuole una riga di intestazione print questa è la riga di intestazione questo è il mio primo livello di approssimazione a questo esercizio stamperà una riga di intestazione e dice di se stessa io sono una riga di intestazione poi c'è una riga che dice io sono una riga per x uguale 1 io sono una riga per x uguale 2 io sono una riga per x uguale 3 e così via quindi noi abbiamo risolto il primo passo del ragionamento cioè fare un programma che stampi 10 righe e davanti una riga di intestazione quella di intestazione è facile fuori dal ciclo for perché deve essere inserita una volta da sola adesso dobbiamo concentrarci su che vuol dire stampare una riga perché non è che posso dire all'utente guarda la riga per x uguale 7 fatti tu i calcoli perché qua ci dovrebbe essere la riga e i valori di 7 alla 1 7 alla 2 7 alla 3 7 alla 4 te li calcoli da solo no ovviamente non lo posso dire ma anche qua posso ragionare sulla singola riga adesso su una singola riga il valore di x in certo senso è costante non in certo senso è costante e cosa cambia su una singola riga cambia la potenza questi esponenti qua che valgono 1 2 3 4 così via quindi mentre io avevo le righe che avevo numerato con x da 1 a n potrò fare lo stesso valore con le colonne che le posso numerare con p per potenza quindi avrò la colonna p uguale 1 p uguale 1 la colonna p uguale 2 e così via fino all'ultima che sarà la colonna quindi p vale da da 1 fino a p uguale 4 ma per generalità mettiamo un k che sia il numero di colonne in questo caso per noi k uguale 4 quando ragioniamo su questo noi siamo io prima l'avevo evidenziato la riga 3 quindi immaginiamo di essere dentro questa riga 3 e dimenticarci del resto del mondo qual è il mio scopo nella vita adesso nella riga 3 il mio scopo nella vita avendo un valore di x che so già che è uguale a 3 perché in questa riga x vale 3 e stampare il valore di 3 elevato a 1 3 elevato a 2 3 elevato a 3 3 elevato a 4 fino a quanto eventualmente 3 elevato a k ma questo è facile perché basta che noi iteriamo il valore di p facciamo un ciclo for con p che parte da il valore minimo 1 al valore massimo k e per ogni valore stampiamo un numero il numero è calcolato come x elevato a p questa roba qua sarà x elevato a p in python lo scriveremo x asterisco asterisco p allora proviamo a concentrarci sulla stampa della singola riga quindi e dove la mettiamo la stampa della singola riga è dove c'è scritto stampa una riga quindi questa questa procedura che sto seguendo mentale si chiama raffinamenti successivi cioè io faccio una prima bozza del programma dove metto un'istruzione che sia un segnaposto dicendo qui farò questo poi prendo quell'istruzione e la vado a raffinare vado a espandere a esplodere entro dentro e vedo come deve essere fatta dopodiché quell'istruzione prima facciamo fasulla che avevo scritto non mi servirà più perché la avrò sostituita col codice vero e proprio quando faccio questo io adesso lo faccio direttamente qui dalla riga 6 in avanti però mentalmente dovete diciamo così focalizzarvi concentrarvi su quest'istruzione cioè ciò che facciamo non guardate più quello che c'era prima guarda faccio una cosa così lo cancello ok? lo nascondo noi adesso dobbiamo fare questo come se fosse un problema a parte e come faccio stampare una riga di potenze di x vabbè semplicemente dovrò variare l'abbiamo chiamata p questa variabile in un range che va da 1 a k quindi k più 1 perché k è il valore massimo e che cosa dovrò fare per ciascuno di questi dovrò stampare niente più niente meno che x elevato a p poi l'estetica la sistemiamo che è il valore corrispondente alla riga x che per noi qua è una costante vedete che c'è già un dato devi stampare la riga x quello è x non preoccuparti da dove arriva x come varia eccetera elevato a p e p è il mio contatore di colonna lo potevo chiamare c come colonna l'ho chiamato p come potenza fate voi quello che manca ancora vedete che qua mi dà un errore che non ho definito la costante k allora a questo punto la possiamo definire all'inizio k uguale 4 a questo punto sveliamo il togliamo questi spazi questa print non mi serve più quindi la trasformo in un commento e quindi per ogni valore di x stamperà le varie potenze vediamo cosa succede succede un po' casino ma cerchiamo di capire perché lui ha stampato 1 1 1 1 questi 4 uni sono 1 alla 1 1 alla 2 1 alla 3 1 alla 4 cioè la riga con x uguale 1 poi ha scampato 2 4 8 16 che sono i valori corretti della seconda riga dove è andata che sono i valori 2 4 8 16 sono i valori corretti della seconda riga poi abbiamo 3 9 27 81 che sono i valori corretti della terza riga e così via quindi ha stampato i valori giusti questi sono i valori che ci aspettiamo di vedere nella tabella fino ad arrivare a 10 100 1000 10.000 l'unica difetto è un difetto diciamo così estetico dato il fatto che questi numeri anziché essere incolonnati sono sbrodolati tutti uno sotto l'altro questo perché perché l'istruzione print ogni volta che stampa qualcosa poi va a capo allora questo è un problema ino diciamo estetico il problema algoritmico l'abbiamo risolto l'abbiamo risolto nel senso che siamo riusciti a trovare il modo di stampare tutti quei numeri che ci servono è un problema estetico di incolonnarlo nel modo giusto e quindi è un altro sotto problema andiamo a raffinare ulteriormente questa situazione print perché stampa il valore giusto ma non lo stampa nel formato giusto ok quindi a questo punto ci riponiamo un sotto sotto problema che è maldizione come faccio a stampare un numero senza andare a capo nel risolvere nella fronte questo sotto sotto problema non me ne frega niente di chi è P non me ne frega niente di chi è X di quale ciclo 4 sono dentro perché il mio problema diventa quello metà della difficoltà nel risolvere gli esercizi è farsi le domande giuste e chiedersi che cosa sto cercando di risolvere in questo momento ok allora come fare la print ci serve un'informazione che non avevamo e andiamo a prenderla qui scusate ecco in questa slide 71 forse i numeri sono leggermente diversi dalle vostre perché stiamo anche un po' aggiornando in tempo reale ma che è una slide che ci dà la sintassi un pochino più ricca completa dell'istruzione print e l'istruzione print adesso non stiamo a vedere tutti i dettagli però questo primo parametro objects vuol dire che dentro la print puoi stampare quello che vuoi tutti gli oggetti che vuoi ma poi esistono degli argomenti opzionali argomenti opzionali sono due uno si chiama set e l'altro si chiama end poi ci sono altri due che si chiamano file e flash ma non ci interessano normalmente l'istruzione print ogni volta che stampa una serie di valori immaginate questa print ora, minuti, secondi cosa fa la print? stampa il valore dell'ora adesso sono 10.50 stampa la 10 spazio 50 spazio che ne so 27 secondi e poi va a capo quindi la print di suo rispetto ai dati che ci mettiamo aggiunge due cose aggiunge un separatore cioè uno spazio che separa un dato dall'altro che è uno spazio se non ci piace che aggiunga uno spazio possiamo decidere noi dire noi alla print quale separatore usare e in questo caso diciamo il separatore sarà il due punti e quindi non scriverà questa print ora spazio minuto spazio secondi maschera ora cioè 10 due punti 51 due punti 27 quindi scegliamo noi quale separatore usare se non gli diciamo nulla la print userà uno spazio come siamo abituati a vedere e la stessa cosa il parametro opzionale end perché la print dopo aver stampato i valori va a capo quindi aggiunge di suo un carattere di fine linea un carattere di a capo che si rappresenta dalla sequenza di escape barra n se noi non volessimo che la print inserisse questo a capo potremmo cambiare il carattere di fine linea o la stringa di fine linea end ad esempio sopprimendo la capo end uguale aperte e chiuse virgolette questo fa sì che in automatico la print non aggiunga più non aggiunga più la capo ma aggiunga ciò che voglio io in questo caso niente non aggiunge niente quindi non va capo e continua sulla stessa riga questo può funzionare sia con variabili che con stringhe che con stringhe formattate e indipendente la print prende i valori che gli vogliamo stampare e poi aggiunge o non aggiunge degli spazi per separarli o degli altri caratteri per separarli indicando il separatore e chiude diciamo così la stampa non la stringa non modifica le stringhe solo la stampa la chiude aggiungendo una capo quindi in questo caso se non volessimo lo spazio aggiunto in automatico basterebbe scrivere separatore uguale stringa vuota sì assolutamente e quindi in questo caso noi non vogliamo che questo x elevato a p vada a capo e allora diciamo che semplicemente dopo averlo stampato non andare a capo end uguale stringa vuota e quindi dopo questo 1 il secondo 1 non andrebbe a capo per stamparlo ma me lo scriverebbe di fila tenete presente che il separatore sep ha senso solamente se ho più di un valore da stampare print una cosa virgola un'altra virgola un'altra allora in questo caso queste cose come si separano ok invece end vale sempre sia che stampi un solo dato sia che ne stampi di più quindi hanno due ruoli diversi in questo caso che stampiamo un valore solo il separatore non ha senso non verrebbe mai applicato perché il separatore separa i dati se ce ne sono almeno due allora vediamo cosa succede qui qualcuno riesce a indovinarlo Mattia direi che già ha indovinato viene fuori di questa cosa non va mai a capo e non li stacca neppure uno dall'altro allora cosa possiamo fare Massimiliano dice mettiamo uno spazio in end oppure un a capo da qualche parte ok 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 allora risolviamo sono due problemi perché in realtà la print non lo sa che alcune volte deve stampare un numero e quello successivo deve stamparlo di fianco e altre volte invece deve andare a capo e quando deve andare a capo quando cambia x quando cambia il valore di x quando ho finito una riga e devo andare a capo per quella successiva allora facciamo una cosa semplice mettiamo uno spazio qui se mettiamo uno spazio qui li vedremo ancora tutti in fila ma separati e già ci piace di più e poi dobbiamo ricordarci che alla fine di ogni riga dobbiamo andare a capo quando è la fine della riga la fine della riga me lo dice qua e dopo che ho finito di stampare questa riga quindi alla fine di questo ciclo for mettiamo una print che non stampa niente mettiamo una print che non stampa niente e stampa niente ma ci aggiunge una capo perché la print se non forza un end diverso ci aggiunge sempre una capo di suo quindi ogni volta che stampo un dato dopo il dato metto uno spazio alla fine del ciclo for quindi dopo aver stampato i k dati i quattro dati di questa riga vado a capo quindi faccio una print di niente e poi ovviamente la print da sola avrà un end uguale a capo che è sottinteso non ho bisogno di scriverlo ok ho visto dei commenti ma così vedo che qualcuno l'ha cancellato perché volevo commentarlo cosa manca ancora adesso manca ancora il fatto che non sono ben incolonnati perché è vero che sono così ma non sono ben allineati allora per incolonnarli possiamo usare gli operatori di formattazione delle stringhe vi ricordate l'abbiamo un po' commentato il fatto di stampare un valore con un certo numero di spazi totali con un numero di cifre prima e dopo la virgola eccetera quindi se usiamo di nuovo una f stringa noi potremmo scrivere che noi vogliamo stampare che cosa il valore di xp quindi qui stiamo facendo un giro strano stiamo prendendo x elevato a p che è un numero lo stiamo mettendo nelle parentesi graffe all'interno di una stringa formattata quindi prendo il numero lo converto in stringa poi lo stampo voi dite ma hai fatto un passo in più sì ho fatto un passo in più ma perché poi se io lo uso nell'f string posso usare il carattere di due punti e specificare il formato in questo caso il formato sarà un floating point no è un numero intero di decimale perché sono tutti interi non sono floating point e per averli incolonnati li voglio magari tutti su 10 spazi quindi questo giro strano prende questo numero calcola questo numero lo stampa come un numero intero su 10 posizioni usando sempre almeno 10 posizioni se il numero è più corto di 10 caratteri aggiungerà degli spazi davanti vediamo se è così se me lo ricordo bene eccolo qua quindi quando ha stampato l'1 in realtà lui ha stampato questa cosa qui 9 spazi seguito da un 1 altri 9 spazi poi in realtà ci ha aggiunto uno spazio in più questo qui perché è questo end quindi ha aggiunto lo spazio in più qua lo possiamo vedere se al posto di end mettiamo una sbarra verticale risulta visibile per farci vedere che c'è poi la possiamo togliere di nuovo rimettere lo spazio forse a questo punto non ci serve neppure più perché visto che abbiamo messo tanti spazi davanti ai numeri possiamo mettere una stringa vuota qua perché la spazzatura già ce la mettiamo noi dentro la formatazione del numero ma questi se lo vogliamo sono dettagli uno spazio in più uno spazio in meno Andrea mi chiede se nell'output formatato sep perde il suo significato no nel senso che sep serve se tu avessi più valori da stampare quindi se io stampassi questo poi stampassi il valore di k e poi stampassi un'altra cosa 33 allora tra questi tre valori ci sarebbe separatore sep indipendentemente dal fatto che i singoli valori siano stringhe formattate numeri costanti variabili non importa è solo diciamo così questa virgola qua che separa gli argomenti della print come viene stampata che cosa corrisponde se ho un argomento solo il separatore non serve non viene mai usato e conta solamente il finale quindi normalmente si cerca di usare la formatazione di campo per diciamo così dare lo spazio giusto e si annulla l'end per poterli poi concatenare uno a fianco dell'altro allora Sofia mi dice avevamo usato 10s al posto di 10d sì perché s sta per stringa d sta per numero decimale adesso stiamo lavorando su una versione aggiornata di quelle slide in cui si raccontavano queste cose dove ho messo dentro le tabelle voglio dire che quell'argomento io non volevo entrare troppo nel dettaglio perché veramente ci sono fatti miliardi di dettagli ma voi vi appassionate sempre queste cose qua lo spazio in più lo spazio in meno e allora pubblicherò giorni stiamo rifinendo una versione di quella dell'unità 2 se non sbaglio dove si parlava della formatazione delle stringhe dove a questo punto ci sono tutte le tabelle con tutti i vari codici di formatazione d sta per decimale quindi numeri interi f per float s per string ok questa è la tabella che volevamo Maria vorrebbe centrare i valori nella tabella col carattere di circonflesso sì lo puoi fare ma secondo me non viene bene perché i numeri sono centrati più o meno ma i numeri vengono bene se sono incolonati a destra non centrati perché l'unità sono incolonate sull'unità le decine sotto le decine dalle scuole elementari in avanti abbiamo imparato a fare così i metodi di formatazione dobbiamo ricordare la memoria allora il discorso di ricordare la memoria le cose vi preoccupa molto no potremo adesso dobbiamo capire in che forma ma sicuramente vi lasciamo anche durante l'esame ma anche adesso diciamo così durante gli esercizi consultare la documentazione che vi serve è chiaro che vi dovete ricordare che esiste quella cosa diciamo ma devo mettere gli spazi come faccio a metterli e aspetta c'erano gli operatori di formatazione andiamo a vedere come sono fatti allora il singolo letter dove mettere il numero eccetera lo andiamo a vedere poi magari i due usiamo di più anche senza farlo opposto ce lo ricordiamo ok però il passo precedente è ricordarsi che esiste questa possibilità e quindi possiamo usare un attore di formatazione dentro un fstring per modificare la visualizzazione del numero se Andrea mi chiede una dispensa sintetica se andate dove c'è il libro sulla pagina dell'editore potete scaricare le appendici una delle appendici è proprio il riassunto del linguaggio sul libro di testo di Orsman oppure andate su docs.python.org e trovate tutto ogni tanto nelle slide vedete che c'è un link anzi in queste tabelle sulla formatazione ho proprio messo il link alla pagina sul sito ufficiale di Python dove c'è questa informazione però io lo sapevo che finiva così nel senso che ci andiamo a impelagare in questa formatazione quando in realtà ricordiamoci che la formatazione era un sotto sotto problema rispetto al sotto problema di stampare una riga rispetto al problema di stampare la tabella stiamo lavorando contemporaneamente su tre livelli abbiamo tre livelli di pensiero di cervello che dobbiamo tenere separati quelli più importanti sono in questo caso quelli più esterni che sono i livelli algoritmici l'ultimo è un livello io lo chiamo senza offesa estetico ma perché di fatto questo fa ci manca ancora un pezzo però per finire l'esercizio che è quello di stampare la riga di intestazione perché vorrete mica lasciare scritto così questa è la riga di intestazione allora vuol dire che al posto di questa print questa è la riga di intestazione dovremo anche lì scrivere delle intestazioni di colonna che sono scriveremo x alla 1 x alla 2 x alla 3 x alla 4 fino a k e come? di nuovo anche qua visto che dovremo farlo uno per ogni colonna faremo un ciclo uguale a prima range di 1 k più 1 questo ciclo attenzione che non è un ciclo annidato in niente è un ciclo a parte lo faccio prima poi quando ho finito questo ciclo comincio quello grosso sulla x e cosa ci devo stampare qua? dovrò stampare di nuovo attenzione con end uguale 0 cioè end uguale stringa vuota così non ci metto non va a capo dovrò stampare qualche cosa che sia come x uguale x elevato a quindi potrebbe essere un x elevato scriviamo così a non scusate f mi sono incasinato cancello tutto allora ci metto una stringa formattata che contiene dentro x il simbolo x non il valore di x che non esiste ancora il simbolo di elevato e poi il valore di p più 1 scrivo così andando a capo così lo leggiamo più facilmente poi dopo quando abbiamo finito di ragionarci lo condensiamo e proviamolo così quindi al posto di stampare questa riga intestazione stampiamo qui ci sarà x alla 1 x alla 2 x alla 3 x alla 4 scritti così vediamo cosa viene allora sono pirla perché ho fatto più 1 e non serviva perché p partiva già da 1 quindi infatti vedete che ci scrive x alla seconda terza quarta quinta e non 1 2 3 4 quindi scusate questo più 1 lo togliamo e rivediamo allora qui mi da due problemi uno che li scrive tutti appiccicati quindi anche qui li devo spaziare e due che non va a capo perché la prima riga deve iniziare a capo vabbè il fatto di andare a capo lo risolviamo facilmente perché basta mettere una print di a capo dopo questo for quindi questo for stampa le singole colonne della riga di intestazione e poi vado a capo e quindi questo l'abbiamo risolto facilmente ma poi dobbiamo spaziare mettere degli spazi tra questi quindi noi dobbiamo formattare P stampandolo a questo punto non su 10 spazi ma solamente su 8 qualcosa così perché 8? perché altri due caratteri sono stati presi dalla x e dalla centino e quindi vediamo un po' cosa mi viene no, mi viene male perché a questo punto faccio x elevato tanti spazi poi 1 quindi magari quest'uno qua lo allineo a sinistra e quindi metto il minore non perdiamoci su queste cose questo potrebbe essere un modo solo che poi questa stringa è allineata a sinistra e non a destra quindi dovrei a sua volta formattarla e qui ci si perde se vogliamo la giornata cercare di farlo venire perfetto ok? siamo riusciti a stampare le intestazioni anche se non sono allineate perfettamente come vorremmo in realtà il modo giusto di farlo sarebbe prendere il numero convertire in stringa con catena tutta in un'unica stringa e stampare la stringa allineata a destra però come dicevo rischiamo di perderci più tempo su questo che non sulla parte diciamo così algoritmiche quindi accontentiamoci così poi se vogliamo andiamo a raffinare ma oggi volevo parlare di cicli non tanto di formattazione ok? e questo è il risultato volevo solo riprendere un paio di commenti che ho visto prima e D'Aria in particolare mi diceva ma io avrei anche potuto mettere d'end tanti spazi quanti ne servivano per incolonnare sì giusto quanti sono però questi spazi come fai a calcolarli perché qui sono 9 qui sono 7 qui sono 5 quindi è vero si poteva benissimo fare quindi mettere insieme spazio per 9 ricordate che si può moltiplicare una stringhetta per un numero per ottenere la ripetizione di questa stringa però ti creavi il problema in più di immaginare quanto era lungo il numero e quindi per differenza quanti spazi devi aggiungere e invece così ci siamo tolti il problema diciamo a lui a Python senti stampami un numero e io voglio che in totale occupi 10 spazi 10 caratteri e quindi aggiungici tu tanti spazi quanti servono per far sì che il numero complessivamente impieghi 10 caratteri e quindi questo conto se lo fa lui certo era anche un modo quello ma ti richiedeva di insomma farti un logaritmino per sapere quante cifre di quante cifre era composto il numero oppure convertirlo in stringa a misurare la lunghezza della stringa però capisci che aggiungevi complicazione cercando di fare a mano una cosa che in realtà lui poteva già fare però era sicuramente un approccio valido ok diciamo i videati che condividete le guardo poi diciamo nell'intervallo perché altrimenti ci blocchiamo non riesco a seguire il tempo reale tutto così ok se il numero Francesco occupa più carattere di quelli che gli abbiamo dato lo stampa lo stesso ma chiaramente l'incolonamento si perde cioè ovviamente lui se fosse un numero con 11 cifre le stampa tutte le cifre 11 anche se gli hai dato solo 10 spazi e poi ovviamente sborda il resto perché per lui è più importante stampare il numero che non mantenere l'incolonamento ok ma non vorrevo che questo ci distresse dal fatto che noi abbiamo fatto due cicli for ogni dati l'uno dentro l'altro perché ma devo dire che non ci abbiamo quasi pensato al fatto che abbiamo fatto due cicli for ogni dati l'uno dentro l'altro ci è venuto così ci è venuto così sulla base di come abbiamo decomposto il problema l'abbiamo decomposto diciamo così prima per righe e poi all'interno di una riga le varie colonne se io adesso vado a vedere che cosa succede all'interno dei due cicli io ho guardate in che ordine vengono eseguite le elaborazioni noi abbiamo questi due cicli qua ciclo esterno che gira su x da 1 n da 1 a 10 ciclo interno che gira su p la cui variabile di controllo è p che varia da 1 a 4 ok e nella stampa finale abbiamo visto adesso qui è tutta bella incolonnata ma noi ci ricordiamo come era la prima versione quando i numeri erano tutti uno sotto l'altro e lì si vedeva meglio in che ordine disputavamo fuori questi numeri e quindi in che ordine venivano eseguite le operazioni e le operazioni vengono eseguite per righe quindi noi avevamo questa prima casella in cui x uguale 1 e p è uguale 1 prima poi abbiamo questa casella in cui x uguale 2 e p scusate ho detto una stupidaggine x uguale 1 e p è uguale 2 poi abbiamo questa casella in cui x uguale 1 più uguale 3 poi abbiamo steppato questa casella x uguale 1 più uguale 4 poi siamo andati a capo x uguale 2 più uguale 1 x uguale 2 più uguale 2 x uguale 2 più uguale 3 x uguale 2 più uguale 4 poi siamo andati a capo x3 più 1 x3 p2 x3 p3 x3 p4 eccetera eccetera l'ultima riga era quella con x che vale 10 e p vale 1 10 2 10 3 10 4 allora cosa vediamo? nell'ordine in cui le abbiamo scritte vengono calcolate allora cosa vediamo? vediamo che il ciclo più esterno quello con la x è più lento 1 1 1 1 poi cambia 2 2 2 2 poi cambia 3 3 3 3 3 il ciclo più esterno cambia una volta ogni volta che quello interno fate tutto il giro quindi quello con il ciclo più uguale 1 che è quello più interno quindi quello esterno è lento quello invece interno è invece più veloce quindi per un valore della x 1 quello interno fa tutti i valori 1 2 3 4 poi quello esterno si incrementa di 1 sono qua sul 2 quello interno fa tutti i valori 1 2 3 4 quindi il ciclo interno si ripete diciamo più velocemente acquisendo tutti i valori che deve acquisire per ogni singolo valore del ciclo esterno